La lista dei Bigging Aras Remo 2017 verrà ufficializzata da Carlo Conti lunedì 12 dicembre, eppure i rumors che circolano ormai da settimane su Elodie di Patrizzi si fanno sempre più insistenti in queste ore. Non c'è ancora nulla di confermato, tuttavia pare cosa fatta che vedremo al festival la cantante dai capelli rosa con un brano a cui avrebbe collaborato Emma Marrone. La cantante di Amici 2016 ha stretto un rapporto di profonda amicizia e di collaborazione professionale con la sua coach, l'ha infatti accompagnata durante l'Adesso Tour, sono state in vacanza insieme a New York e adesso sembrano intenzionate anche ad andare a convivere. Emma Marrone aveva dichiarato qualche tempo fa che Elodie è la sua ombra e se le voci sulla sua partecipazione a Sanremo 2017 fossero confermate, potremmo anche pensare che Elodie abbia concrete possibilità di fare lo stesso luminosissimo percorso di Emma che The Festival se ne intende parecchio. Su Twitter l'indiscrezione sulla cantante a Sanremo pare essere data già per certa, tanto che è scoppiato l'entusiasmo quando è circolata la news che potrebbe andare a Larison proprio con un pezzo scritto da Emma. Mancano ancora poche ore prima di scoprire se è tutto vero.